C'è una ragione per la quale Dio mi ha chiamata a far parte della sua chiesa. Per la ricorrenza di Santa Teresa di Calcutta. Di fatto Dio stesso mi ha detto cosa devo fare. Mi ha parlato, mi ha parlato per bocca di un mendicante malato. Oh, feta, oh, feta. TV 2000 ripropone il film Madre Teresa, In the Name of the Poor, con Geraldine Chaplin, lunedì alle 20.55.